Musica Allora, di questa giornata cosa ne pensi? Bellissima, una giornata che dimostra come su temi che apparentemente possono sembrare astratti come quella della Costituzione c'è un vasto consenso, i cittadini accorrono, quindi bene, bene E di questa cosa che è successa ieri tra il Movimento e Grillo? Sono questioni che riguardano Grillo, il Movimento, le risolveranno, mi sembra che oggi stiamo parlando di altri Si ricostruirà una sinistra riformista, secondo te ci sono i termini? Non lo so, non lo so proprio, io penso che si può ricostruire qualcosa sui grandi principi, sui grandi valori, questo sì, non sulle piccole cose, sulle cose che la gente non capisce Grazie